C'è una sola risposta per entrambe le domande, i soldi. No, dietro il film c'è soltanto tanta morte e tanta distruzione e basta. Lunga vita, long live and prosper al genere. Lasciate perde, fate la pizza. Calcolate che Sorbillo in una sera guadagna molto di più di quanto guadagna il cinema in tutto l'anno. Grazie. 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 Grazie.